Allora, questo è un tema che come potete immaginare è molto difficile, è molto delicato, è molto doloroso. Ha in sé mille, mille storie diverse da un punto di vista biografico, mille problemi diversi. Quindi cerchiamo di darne una lettura generale che poi va. Partiamo da una premessa. Cosa noi ereditiamo dal nostro albero? Quanto di ciò che è accaduto nel passato, nel dolore, nella gioia, può definire la nostra identità, la nostra professione, il nostro mandato di coppia, le nostre paure più profonde? L'albero sicuramente trasmette senso di identità, morale, religioso, modelli familiari, relazionali, il mito familiare, la narrazione che l'albero fa di se stesso per dare coesione, per dare identità, per dare rispettabilità, per essere accettato nel mondo, magari con un esterno che può essere anche molto distante dall'interno a volte, no? E definisce anche le regole di comportamento. Tutto questo è legato spesso al tempo, al luogo in cui l'albero e quelle generazioni che stiamo studiando vive ovviamente. Tutto ciò che è morale, religioso e moralmente e da un punto di vista religioso accettabile, no, tendenzialmente cambia nel corso del tempo e quindi siamo a livello non di inconscio collettivo ma a livello di inconscio individuale e familiare. Ovviamente dall'albero, oltre al senso di identità, ai talenti, alle capacità, ereditiamo anche le paure più profonde, il segno impresso a fuoco di ciò che più ha toccato quell'albero. La morte di un figlio, che è il caso del video di oggi, un crollo economico, la perdita della casa, una malattia, gli abbandoni, la povertà. Ognuno di noi ha qualche trauma ereditato e comunicato sia a livello implicito che esplicito. Ognuno di noi ha in sé anche in parte le esperienze di chi lo ha preceduto. Non veniamo mai al mondo come tabule rase. Queste esperienze sono magari ormai lontane, così lontane da essere ormai scivolate sotto. Non ce n'è più neanche memoria verbale, linguistica, non ce n'è neanche più magari ricordo ma ugualmente in un tema natale possono emergere. Psichicamente questo cosa vuol dire che sono rimaste attive. Se non vi è più ricordo o se c'è ricordo ma anche una storia lontana ma nel tema natale una cosa appare vuol dire che inconsciamente siamo molto legati, molto segnati, molto coinvolti e molto leali a quell'antico dolore irrisolto. Se è arrivato fino a noi in questa forma è un irrisolto perché il lutto elaborato non si trasmette ai discendenti, si trasmette una memoria magari di quanto avvenuto ma non ha contenuto psichico troppo forte. Se invece il lutto non è stato elaborato allora va avanti anche nel tempo. Il lutto poi è appunto una delle situazioni più frequenti che nella storia di un albero che noi possiamo poi studiare da un punto di vista astro genealogico si fa irrisolto, diventa pietra. E la perdita di un figlio è uno dei motivi più frequenti affinché un lutto possa scivolare nell'essere un lutto patologico o complesso. Le situazioni in cui un lutto può farsi irrisolto sono molte e quindi spesso diventano ombra perché sono molto difficili e dolorose da elaborare, quindi vengono rimosse. Quali sono in generale i lutti che possono creare un irrisolto e che poi noi andiamo a guardare da un punto di vista psicogenealogico e astro genealogico. Le morti premature, le morti tragiche e quindi il modo in cui una persona della famiglia è morta, le morti violente, i suicidi, lutti molto ravvicinati fra di loro che quindi l'albero ha proprio un vuoto che si crea, collassa in qualche modo un albero. La profonda fragilità di chi rimane in vita e anche alcuni aborti complicati. Possono essere spontanei, possono essere volontari, possono essere terapeutici. La perdita di un figlio cambia per sempre la vita di una coppia e dell'intera famiglia e questo avviene ieri come oggi. Questo è un caso che a me sta tanto a cuore. Giulio Reggiani era un ragazzo friulano della mia regione e ha andato incontro a un destino terribile che veramente è inimmaginabile per ognuno di noi come sono stati gli ultimi suoi giorni e come questa famiglia riesca a sopravvivere, a tollerare. Lo spartiacque di certi eventi è qualcosa di drammatico, di terribile e a volte si sopravvive grazie alla lotta per la giustizia, per la memoria. Attenzione, perdere un bambino è sempre un'esperienza terribile in un albero, appunto come dicevamo perché va contro ogni senso di continuità e di discendenza. Strappa il cuore e il futuro di chi rimane, anche in epoche passate. Questo è un pregiudizio che io incontro spesso nella lettura degli alberi ma poi nello studio dell'albero, nello studio dei temi natali o proprio conferma che il dolore e lo strazio della perdita di un figlio è sempre uguale in tutte le epoche. La frequenza con cui avviene non toglie intensità al dolore e quindi anche nell'epoca in cui la mortalità infantile era più alta rispetto ad oggi la perdita di un figlio rimaneva un luto pesantissimo per una famiglia. Non importa quanti figli si abbiano, quanti figli una coppia abbia, il dolore e lo strazzo di aver perso quella bimbina, di aver perso quella figlia, di non avere più la sua voce, la sua risata, i suoi giochi. Quindi attenzione, una foto così descrive proprio bene come dopo il dolore non si voglia cancellare, non si voglia dimenticare, anzi questa foto è veramente bellissima perché ci sono tanti figli raccolti intorno a questi due genitori e la bimba persa è centrale. Come possiamo pensare che queste persone nella loro discendenza o nei loro temi natali non abbia nessuno traccia di ciò? È impossibile, no? Perché una persona quando è inserita in una famiglia anche se numerosa è quella persona e perdere è sempre perdere. La perdita di un figlio va sempre studiata ovviamente in astrogenealogia con molta attenzione. Perché? Perché apre due possibili scenari molto importanti, quello della madre luttuosa e quello del possibile ruolo familiare del bambino di sostituzione o in casi più rari di riparazione. Se in una famiglia è morto un bambino ovviamente tutti i fratelli e le sorelle viventi, sopravvissuti, coloro i figli che non sono morti, hanno questa esperienza dolorosa su di sé. Dove muore un membro della generazione orizzontale c'è un vuoto enorme della famiglia. Che se ne parli, che lo si taccia perché è troppo doloroso parlarne, che lo si ricordi, che non lo si ricordi, non importa. La tensione psichica c'è, espressa in maniera esplicita, implicita, ma c'è. La vita dei genitori è cambiata per sempre. Però ogni figlio può aver vissuto questo lutto in modo molto diverso. Non è detto che tutti loro o tutti i loro discendenti abbiano per esempio questa storia è iscritta nel tema natale. Perché? Proprio perché dobbiamo andare a controllare quando è scattata la figura della madre luttuosa e quando invece c'è la situazione o aprirsi la finestra del bambino di sostituzione. Abbiamo tre casi, tre ipotesi da studiare. Allora, la madre luttuosa è la madre che ha perso un figlio. Io per perdita di un figlio intendo anche gli aborti. Allora è ovvio che un aborto spontaneo nel primo trimestre difficilmente diventa lutto risolto. Ma un aborto spontaneo di un figlio desideratissimo può diventare lutto risolto, soprattutto se è sottovalutato da chi sta attorno. Tuttora gli aborti spontanei spesso sono estremamente sottovalutati nel dolore che provocano. Non bisogna mai dire ne avrai altri, ne hai già due. Non importa, hai perso quello, è il discorso di prima. Non sottovalutiamo mai il dolore di un aborto ma anche di quello volontario. Ovviamente mai si giudica, ovviamente si deve considerare cosa ha portato. Anche qua, se un aborto volontario è stato scelto consapevolmente, difficilmente diventa un lutto risolto, anche se non è così semplice perché poi nel tempo possono svilupparsi anche dinamiche diverse. È ovvio che se un aborto invece volontario è stato obbligato da eventi di varia natura, difficoltà economiche, una situazione affettiva non facile e via dicendo allora può farsi risolto. Soprattutto se poi non se ne può parlare perché intorno all'aborto volontario ci sono tanti tabù, ci sono tante sensovolte di giudizio, quindi è un discorso delicatissimo da fare sempre con le signore che hanno vissuto questa esperienza ma anche nel passato. perché io guardate in tutti gli alberi incontro questo tipo di situazione e l'aborto clandestino era terribile da vivere, pericolosissimo. Oppure abbiamo la nascita di un bambino che nasce e muore oppure abbiamo la madre luttuosa di un figlio bambino o addirittura più grande. Cosa dobbiamo distinguere? Dobbiamo distinguere quando l'evento traumatico che si imprime nell'inconscio familiare che quindi poi si trasmette perché non è risolto, quando avviene. Io qua vi metto un caso che è proprio reale. Allora qua abbiamo la morte di un figlio e di una femminuccia che muore poche ore dopo la nascita. In quest'albero la distribuzione dei figli ha delle pause anche molto ampie. Nasce un primo figlio nel 45, quattro anni dopo una femminuccia, otto anni dopo addirittura quindi con una pausa molto ampia, no? Un maschietto. Poi abbiamo la tragedia, abbiamo agli inizi del 59 una bimba che muore poche ore dopo la nascita e nel giro di pochi mesi una nuova gravidanza e nasce una femminuccia. Allora cosa è la particolarità del primo caso di madre luttuosa? Che all'interno della fratellanza della gerarchia orizzontale abbiamo dei figli che non hanno avuto una madre luttuosa, ma hanno avuto una mamma normale, il primo, la seconda, il terzo, a livello fetale, quindi quando vado a vedere, non so, l'analisi della luna prenatale, lo studio della vita fetale attraverso il tema natale, trovo magari una mamma che ha avuto preoccupazioni, una mamma che magari aveva problemi col papà o problemi economici, ma non ho una madre luttuosa. Qua qualcosa cambia. Una bimbina nasce e muore. Nove mesi nel grembo, la nascita e il parto e sta bambina scivola via. Cosa succede? Che immediatamente dopo, perché qua parliamo veramente di 15 mesi, nasce un'altra femminuccia. Nasce vuol dire che è stata concepita subito dopo. Questa è una cosa che colpisce sempre molto. Io l'avevo analizzata molto nello studio sia di Vincent van Gogh sia di Salvador Dalí, tutti e due nati proprio a un anno di distanza dalla morte di un fratellino che aveva lo stesso nome e via dicendo, senza entrare nei loro casi che adesso non ce n'è tempo. Ma quello che voglio dire è che uno si chiede ma com'è possibile che c'è un dolore così profondo, così straziante, così uno strappo e si faccia subito un altro figlio. Questa è una domanda che a me quando ho iniziato a studiare astro genealogia proprio mi affiorava sempre. Attenzione, la frequenza dei casi in cui dopo la morte di un bimbo magari appena nato avveniva un nuovo concepimento è tale negli alberi che evidentemente c'è una spiegazione e i psicogeneologisti, i psicanalisti l'hanno anche trovata. È proprio un bisogno di vita, fra virgolette, che porta subito a dover come in qualche modo continuare la specie, qualcosa proprio di molto profondo, di non fermarsi e ovviamente il modo in cui viene concepito in un momento così doloroso e così disperato è completamente diverso dal modo con cui vieni concepito in questo bambino, in questo bambino, in questo bambino. Perché? Perché il concepimento di un bambino dopo la perdita di un figlio, uno, ti collega definitivamente, irrimediabilmente a quell'evento, due, solo tu all'interno della fratellanza hai una madre luttuosa. Se qua ci fossero altre nascite avremmo altri bambini che hanno una madre luttuosa e bambini che non ce l'hanno. Quindi la fratellanza si divide in due gruppi, chi è nato prima del dramma, chi è nato dopo. Ma è ovvio che il carico psichico emotivo più pesante ce l'ha il primo nato dopo. Uno perché il lutto è molto vicino. Due perché c'è la grande paura che ricapiti e che dopo si può affievolire, può essere superata. Tre perché c'è un collegamento proprio fra chi muore e chi nasce. Spesso viene dato lo stesso nome. Statisticamente è incredibile, quasi sempre nasce dello stesso sesso e la memoria che si sente su di sé è per sempre agganciata a quell'evento. Si nasce, si diventa proprio coloro che sono collegati all'angelo salito in cielo, la foto. Spesso è anche proprio il rito, la ritualità del cimitero, dell'andare a trovare chi non c'è più, è condivisa solo col bambino nato dopo. Come se solo lui o solo lei potesse veramente capire la tragedia? Perché questo sono altro. Non hanno il collegamento diretto uterino viscerale con la madre luposa. È ovvio che è una posizione scomoda perché può incastrare, può togliere identità se c'è troppo il collegamento a colui che non è sopravvissuto, che è scivolato via dalla vita. Può creare il problema di non potersene mai andare, può dare delle responsabilità diverse. Insomma sono temi natali all'interno di un albero che devi guardare in modo diverso rispetto a questi. Questa è la bimba nata nel 60 dopo la sorellina che era mancata e che aveva creato questo dolore familiare immenso e infinito. Questo era stato un lutto per la famiglia immenso e la mamma era inconsolabile. Nasce. Allora io mi devo subito chiedere, questo potenzialmente è un bambino di sostituzione, cioè ha proprio il compito di sostituire colui che non c'è più, con lei che non c'è più e quindi ha un ruolo scomodo che toglie identità e a cui bisogna reagire. Quindi per esempio Salvador Dalì ha reagito con un urano magnifico che ovviamente l'eccentricità di Salvador Dalì ha ovviamente la radice in questo evento, ha un bisogno di definire se stesso, di avere identità separata da... La seconda categoria più rara, e qua vi presento proprio questo caso perché è più rara, è del bimbo di riparazione, colui che arriva e alleggerisce e riporta gioia e riporta vita. Ecco il tema di questa bimba nata l'anno dopo la perdita di questa sorellina. Allora è ovvio che in un tema natale non ci basta mai un solo indizio per dare conferma a una situazione, è sempre necessario cercare più aspetti, più indizi che ci confermino quello che stiamo cercando. In questo caso la situazione familiare ci porta a studiare con attenzione soprattutto ciò che descrive l'archetipo materno, quindi la luna, e ciò che descrive la fratellanza, il rapporto con la generazione orizzontale pari di questa bambina, che poi è diventata una donna adesso adulta, e che possiamo trovare in Mercurio e nella terza casa. Allora ricordiamoci sempre che il simbolo astrologico è stratificato, cosa vuol dire? Che contemporaneamente narra più cose, narra più vicende. Mercurio è la vita intellettuale, Mercurio è la generazione orizzontale, i fratelli e le sorelle, Mercurio sono gli studi, Mercurio è il tipo di comunicazione. In questo caso noi ovviamente stiamo guardando una cosa specifica, quindi in questo momento noi non stiamo guardando in generale tutto il tema natale. Allora abbiamo un Mercurio in gemelli, quindi un Mercurio forte, in domicilio, in cuspide della dodicesima casa, quindi per un Mercurio così vivace, così curioso, così in movimento, può essere una casa in cui a volte si fa fatica a emergere, a essere visti, è una casa che un attimo può far sentire occultato in certe fasi della vita, questo Mercurio, che ha una bellissima congiunzione a venere, ha relazioni affettive, ha relazioni proprio di vicinanza. Mercurio però ha degli aspetti, è punto focale di un t-square inquadrato a t mobile, il più facile fra i t-square cardinali fissi e mobili per essere in qualche modo integrato, visto, mosso, il t-square vi ricordo che è una formazione chiusa che porta molta tensione alla personalità, ma una tensione che spesso è anche estremamente stimolante nella fatica che innesca. Questo Mercurio diventa punto focale apice delle due quadrature che partono da questi due punti, una quadratura estremamente narrativa per quello che stiamo dicendo, fra Mercurio e Plutone in terza. Un Plutone governato dallo stesso Mercurio, Mercurio ha una posizione di domicilio in gemelli, dove è collocato qui, e poi ha però una sua posizione di domicilio ed esaltazione anche in vergine, dove è Plutone. Quindi il transgenerazionale non è più collettivo come pianeta, ma si pone assolutamente all'interno della biografia di questa persona con il suo simbolismo ovviamente di, in questo caso, anche perdita, morte di un fratello e di una sorella. Non è che ogni quadratura Mercurio-Plutone significa che qualcuno perde un fratello e una sorella, possono essere percorsi di studi e qualcosa muore per rinascere. La vita intellettuale, la vita sociale, possono esserci episodi nell'adolescenza, quindi ovviamente non diamo mai niente per sottointeso. In questo caso, comunque, la situazione descritta da questo Plutone è proprio qualcosa in cui proprio qualcosa è stato spazzato via, la morte non è stata solo psichica o simbolica, ma proprio riguardato un membro della famiglia, una sorellina. E qua siamo di fronte con Plutone a quei grandi eventi della vita a volte contro i quali si è del tutto impotenti, che non si possono frenare, non si possono ammortizzare, in cui anche a volte la lucidità e la razionalità sono in qualche modo armi spuntate. Ha più senso farsi trasportare via e poi ripartire. La rigenerazione porta con sé Plutone, ma spesso per rigenerarsi è necessario far morire qualcosa di sé, qualcosa del passato. Questo senso di grande impotenza familiare di fronte a questo evento descrive anche, attraverso l'opposizione di Plutone al polo, congiunto, stretto, Giove, Chirone, tutta quella che può essere la grande sfiducia che la perdita di questa bimba può aver generato nel sistema familiare. Essendo in pesci può dar l'idea proprio di un senso di sfiducia anche a livello esistenziale, religioso in qualche modo, no? Sentirsi abbandonati da un dio, sentirsi persi. E infatti la mamma dopo aveva avuto, questa signora mi ha raccontato, una profonda crisi religiosa, perché la perdita di questa bambina era stata vissuta come qualcosa di molto difficile anche su quel piano. Chirone indica le ferite del sistema, in questo caso essendo coinvolti i pianeti personali diventano anche ferite biografiche. La morte di questa bambina ha segnato la vita fetale, siamo in dodicesima casa, in astro genealogia studiamo anche la vita fetale, quindi una bambina che nasce è molto amata, è felice questa nascita, però è per sempre collegata, e gli aspetti lo descrivono molto molto bene, a questo grande evento accaduto solo pochi mesi prima della sua nascita, 15 mesi prima. Cosa accade? Andiamo a guardare perché diciamo che questa è una bimba di riparazione e non di sostituzione. Allora intanto nasce con un ascendente acqua, quindi un ascendente che la lega alle emotività, che la rende empatica, sensibile, con una luna bellissima angolare in domicilio, congiunta all'ascendente però dalla dodicesima casa, non dalla prima. Siamo in un territorio profondo, siamo in un territorio che scivola nella storia di tutti, che non ha confini, è un archetipo della fusione, è un archetipo proprio dell'abbondanza, della protezione, che ha una quadratura a Marte, indica in questo una tensione, una difficoltà, ma se guardate è anche punto di un bellissimo trigono di acqua, che va in soccorso a quella sfiducia che Plutone aveva causato, e quindi anche questo è uno dei primi indizi che ci fa capire che la bambina è una bambina riparatrice, che porta luce, che porta pace, che allenta la tensione, trigona a un Nettuno in Scorpione, che ovviamente è un Nettuno che ha visto tutto, ha visto l'ombra, no? È scorpionico. E questo Nettuno è a sua volta trigono a Giove, a Chirone. Quindi la luna va in soccorso e benefica con l'aspetto più distensivo che possiamo avere nei confronti proprio delle ferite familiari, della fiducia, del senso morale, della rinascita e dell'abbondanza. È decisivo. Un'altra cosa che possiamo però valutare è però anche il sestile che la stessa luna fa anche proprio a Plutone. Quindi anche qua va a dare soccorso. Il sestile è un ottimo aspetto che può dare soccorso, soprattutto all'interno di un T-square dove l'energia è molto tesa e chiusa. Spesso solo un sestile può essere come una specie di valvola, uno sfiatatoio che può allentare qualcosa. La terza casa. La terza casa ospita un Plutone che appunto entra in contatto ai personali e proprio al simbolo della fratellanza. C'è un urano, le certezze scosse a livello di fratellanza e la cuspide della terza casa è in leone. Quindi è governata dal sole. Sole stabile, segno fisso, di terra, concreto, però un sole leso. Un sole leso perché è opposto a Nettuno. Quindi a volte gli obiettivi di vita, l'identità non sono così chiari. E quanto può aver pesato? Quindi questa bambina sicuramente per il sistema familiare è benefica, allenta la tensione, no? Alleggerisce il suo ruolo familiare ascendente, diventa prezioso, raggio di luce, ma su di sé tutto ci parla di un'identità che non è facile da conquistare. Questa opposizione, seppur non strettissima, parla nella casa poi della creatività Nettuno, può parlarci di un'identità che cerca certezze, toro, segno fisso, terra, ma non sempre le trova. E dove ne le trova? In un territorio acqua, scorpionico, emotivo, un territorio ombra, in cui molto inconscio. E quindi costruire la propria identità certa non è cosa facile. La quadratura a Saturno può appesantire ulteriormente il quadro, può segnare, qua parla anche di un padre segnato in qualche modo, può parlare anche di un archetipo paterno. E quindi anche questo sole ha bisogno di un cammino, no? Probabilmente per trovare ciò che è, ciò che vuole essere. Marte in ariete può essere uno strumento utilissimo, eccezionale, per tirare fuori a volte, magari in certi momenti della vita, dalle sabbie mobili, questo sole. Perché ovviamente l'accoppiata sole-toro, Marte, ariete, ottima. Questo Marte poi parla attraverso un suo stile con questo Saturno. Anche Saturno è un pianeta molto forte in questo tema, perché ovviamente va in soccorso, cioè il trigono d'aria a mercurio che Saturno fa porta lucidità, porta comprensione degli eventi, porta quel distacco che l'aria impone come elemento, ma che in una situazione così sovraccarica di contenuti emotivi, può essere di grande aiuto per l'integrazione, per l'elaborazione. È un tema natale equilibrato a livello di elementi. Questo non è un T-square per le orbite che io tengo, perché 17 gradi è troppo lontana. Io tengo un T-square valido con orbite massimo 3-4 gradi. Quindi questo è un T-square attivo, 7 gradi, 7 gradi, 8 gradi. Questo è un T-square disegnato dal software astrologico, ma personalmente non lo considero tale. 11 gradi, 11 gradi, ci sta, 17 troppo oltre. Secondo tipo di madre luttuosa. Il lutto, aborto, perdita del bambino, non avviene a un certo punto della fratellanza dividendola in due fra chi ha vissuto la madre normale e chi ha vissuto la madre luttuosa, quindi non crea questo schieramento interno fra fratelli e sorelle, ma è l'ultimo nato che viene meno. Allora, in questo caso, ovviamente, nessuno della fratellanza ha la madre luttuosa. Perché? Perché nessuno nasce dopo l'evento. È ovvio che questa situazione a livello di vita fetale è, fra virgolette, meno grave. Però a livello di storia della famiglia, ovviamente bisogna capire che tipo di conseguenze si ha nella famiglia dopo questo evento. Qua, per esempio, è un aborto terapeutico al quinto mese di gravidanza, no? Un aborto terapeutico è uno di quegli aborti che possono creare lutto complicato, patologico e risolto. Perché? Perché è un aborto obbligato per il rischio. Qua era proprio un rischio per la vita della mamma, malformazioni tali che non c'era nessuna possibilità di arrivare alla fine della gravidanza e quindi un aborto al quinto mese di gravidanza però è un parto. Insomma, è una situazione molto difficile. Però ovviamente è una situazione che non ha gravidanze successive. I due bimbini nati prima, un maschio e una femmina, hanno avuto una mamma normale, no? Nei primi anni di vita. È una vita fetale ed è lì che si struttura tantissimo la personalità. Terzo caso, il dramma avviene proprio alla prima gravidanza e quindi tutti i figli che sopravvivono ne sono coinvolti. Come sempre però un tema natale spicca più degli altri, quello del primo nato dopo il lutto. Perché? Allora, il primo figlio intanto da un punto di vista psicogenealogico è un figlio diverso dagli altri perché il primo genito è l'unico che rimane figlio unico per una parte della sua vita, è l'unico che vive il passaggio della coppia da coppia a, tra virgolette, famiglia. Nel senso dall'essere in due all'essere in tre. È la prima gravidanza, è il primo parto. Ci sono tante aspettative spesso nell'albero. Tutto questo carica e se va male qualcosa lì ovviamente la situazione è difficilissima. Se il bambino nasce e muore nessuno avrà una madre che non è luttuosa ma soprattutto il primo a nascere dopo ha come visto buone possibilità di essere bambino di sostituzione o di riparazione. Se il sesso è diverso già questo rischio si attenua. Questa è la prima cosa da guardare. Se il sesso è diverso o uguale. È ovvio che io qua creo dei casi in cui non tutti i lutti non sono elaborati. Se nel caso di prima la signora si sente in difficoltà, va in terapia e fa un giusto percorso di accompagnamento anche quello che poteva potenzialmente diventare un lutto irrisolto si scioglie. E quindi questi bambini avranno una mamma che ha vissuto un enorme dolore ma non avranno una mamma che questa cosa segna tutti per sempre. Dove c'è aiuto e dove c'è elaborazione anche senza aiuto, anche spontanea, una normale elaborazione del lutto non si crea ovviamente l'irrisolto. Non sempre, non con ogni lutto si crea l'irrisolto. Un'altra situazione che qua non abbiamo modo di approfondire ma che è molto spartiacque nella storia degli alberi e che coinvolge in qualche modo la madre, che diventa luttuosa in altro modo è quando muore il capofamiglia. Una volta ovviamente veniamo tutti da una struttura della società in cui i ruoli sociali erano definiti in base al sesso, le donne non lavoravano e crescevano i figli, gli uomini lavoravano e questo per secoli è stato il modello della nostra cultura. Anche questo è un evento spartiacque profondissimo perché quando veniva meno il capofamiglia spesso se la famiglia non era benestante, ricca, cose che ovviamente sono casi rari, ma di solito si creavano dei problemi immensi. La mamma che subiva questa perdita doveva di solito, i mestieri che nel mio archivio sono più frequenti sono la sarta e andare a fare i lavori nelle case, inventarsi dei lavori o qualche familiare apriva una bottega di qualcosa, ma ovviamente qua si creano delle nuove divisioni nella fratellanza, non fra madre luttuosa e madre non luttuosa, ma spesso per esempio fra chi può studiare e chi non può studiare, fra chi rimane con la mamma e chi viene messo in collegio, fra chi rimane con la mamma e chi deve andare a vivere con gli zii. Quindi anche dove muore un capofamiglia e ci sono figli piccoli, i più grandi vengono genitorializzati, il figlio maggiore o la figlia maggiore deve diventare genitore e quindi c'è magari confusione di ruoli familiari. Se ci fosse una sorella qua maggiore, questo bimbo guardiamo la luna o anche un fratello maggiore, noi non sappiamo chi è la sua luna, la luna i pianeti non hanno genere sessuale, è chi ha svolto quella funzione all'inizio della vita, quindi potrebbe essere la mamma biologica, ma se la mamma biologica ha dovuto andare a lavorare perché il papà era morto e il fratello maggiore si è occupato dei due più piccoli, la luna è lui. È ovvio che questo può creare complicanze per chi si genitorializza, perché ovviamente deve svolgere ruoli familiari che non gli competono e quindi questo strappa tempo libero, strappa ingenuità, strappa infanzia, adolescenza e chi ha un fratello che non è un vero fratello perché ha un ruolo guida che è genitoriale. È ovvio che qua poi il tema natale anche in questo è sempre estremamente narrativo. Il lutto e il risolto fa ombra, l'ombra familiare è quella parte della struttura psichica di ognuno di noi che ha depositato tutto ciò che in una famiglia è secretato, rimosso, censurato, quindi dolore, sofferenza, senso di vergogna, paura del giudizio. Il lutto, il risolto legato alla perdita di un figlio, normalmente si associa a dolore e sofferenza, ma vi sono casi in cui la perdita di un figlio si collega a senso di vergogna e paura del giudizio indicativamente in due casi. Quando c'è stato un aborto e quindi si ha paura del giudizio sociale, religioso e via dicendo e quando un bambino è morto, perché magari non lo si stava sorvegliando, lo si era perso di vista per un momento o ancora peggio, si era affidato a un fratellino e una sorellina maggiore che si è distratto e succede qualcosa e il bambino muore. E quindi c'è il senso in questo caso a dolore e sofferenza si può sommare senso di vergogna e paura del giudizio. Dopo la perdita di un figlio ovviamente si apre la porta a un altro purtroppo grande problema legato ai lutti irrisolti che è quello della depressione, che spesso si può portare dietro anche il problema della dipendenza, perché ovviamente c'è depressione, c'è nero e ti cerchi di anestetizzare dalla realtà e dal dolore. Anche l'infelicità profonda delle persone che amiamo spesso è intollerabile, una mamma luttuosa può diventare ombra, perché il dolore di una madre o di un padre, qua siamo su un video sulla madre luttuosa ma ovviamente tutto questo, io qua lavoro molto sulla vita anche fetale quindi per questo sono più sulla madre, ma ovviamente il dolore è sempre collettivo della famiglia, può creare sempre ombra. Un'altra cosa proprio legata alla coppia genitoriale che perde un figlio, raramente la coppia genitoriale agli stessi tempi di elaborazione. Spesso uno dei due riesce a elaborare prima, riesce ad accettare prima, riesce a superare prima e chi non ce la fa si sente non capito, isolato e quindi magari nasconde il dolore o chi è più avanti nel percorso di elaborazione non vuole tornare indietro e quindi si distanzia e quindi i lutti e la perdita dei figli spesso purtroppo coincidono anche negli anni a venire con gravissime crisi della coppia. La perdita di un figlio è qualcosa che scuote così tanto l'albero che spesso appunto ci sono tante macerie a tanti livelli diversi. Oggi per una coincidenza, per sincronicità, perché il mio inconscio lo sapeva benissimo, insomma possiamo dare tanto letture anche venerdì santo e io era da tempo che volevo fare un video sulla madre luttuosa, che cos'è la madre luttuosa, fare un video che la definiva, no? E casualmente ho tempo di girarlo oggi pomeriggio, no? E quindi adesso in questo momento sono circa le sei di sera e quindi mi è sembrato impossibile non chiudere questo video con il dolore anche che nella cultura da cui proveniamo, che è quella cattolica, cristiana, è il grande dolore di Maria. Io ho scelto tre opere, tre crocifissioni, per chiudere proprio questo video sulla madre luttuosa. Allora la prima, che non è la prima in ordine cronologica, è questa di Masaccio ed è una crocifissione che è visibile a Napoli, a Museo di Capodimonte. È una tempera su tavola piccolina, 80x60, qualcosa del genere, quindi non è un'opera grande, parte di un politico. Doveva stare in alto a cinque metri, questo è il motivo per cui anche la testa di Gesù è molto incassata, sembra sprofondare nella gabbia toracica, no? Il corpo è collassato e in questo collasso la testa si è abbassata, però era fatta per essere vista dal basso verso l'alto, quindi non in modo orizzontale come la stiamo vedendo noi adesso. Abbiamo questa figura della Maria Maddalena, famosissima in questo quadro perché ovviamente c'è questo rosso che ricorda il sangue, ma il rosso è anche un colore fortemente vitale, spirituale e quindi porta tutta questa drammaticità, tutto questo movimento in questa postura, in questi capelli sciolti, disordinati che si muovono in un quadro che per il resto è immobile. Se noi togliamo la figura di Maria Maddalena il quadro è immobile. Se guardiamo Maria, la madre luttuosa, è un pezzo di granito, è addirittura solida, guardate, no? Proprio il panneggio come definisce un corpo solido, le mani sono congiunte, strette e impietrita. Questo è proprio secondo me un'immagine proprio perfetta della madre luttuosa impietrita nel suo dolore. E come si fa a elaborare un lutto che è pietra, che è freddo, che è gelo? Come si fa? È ovvio che la posa di questa Maria Maddalena così drammatica che ricorda le lamentatrici, coloro che una volta ai funerali, no? In questo tipo di situazioni così luttuose gridavano il dolore della famiglia, è un'opera assolutamente astratta in qualche modo, non ha sfondo, non siamo in un tempo, non siamo in un luogo. Per questo anche la situazione di questo dolore di madre luttuosa può ricoprire qualsiasi dolore di madre luttuosa. Non dimentichiamo che Masaccio era partito come formazione dal gotico internazionale dove c'era molto anche il senso dell'eleganza, della doratura, della foglia d'oro. Masaccio quindi in questa doratura ha anche questi ricordi propri della propria formazione, a parte che Masaccio è un artista morto giovanissimo, morto a 27 anni, è nato nel 1401, morto nel 28, quindi proprio giovanissimo. E questa è la prima crocifissione che vi propongo, proprio per questa madre che qua è proprio ferma, immobilizzata per l'eternità in quello che sta vedendo. La seconda è del Mantegna, Andrea Mantegna, e siamo in un'altra epoca, 1457-59. Questo dipinto lo potete vedere a Louvre perché Napoleone se l'è portato via, è uno dei beni razziati da Napoleone e quindi per vederlo non siamo riusciti a recuperarlo e quindi è a Louvre. Qua siamo in una situazione completamente diversa, ipernarrativa, piena di dettagli. Guardate la differenza, qua abbiamo il crocifisso e tre figure, tutto geometricamente che da un lato chiude il cerco, il circuito è chiuso e dall'altra ha un apice nel volto di Cristo, no? E sotto, proprio in senso lineare, la Maria Maddalena e le due figure messe in equilibrio, equilibrate nel loro disporso ai lati della crocifissione. Ma abbiamo detto non c'è tempo e luogo. Qua c'è tutto, la città sullo sfondo, le persone a cavallo che dopo la crocifissione rientrano, non c'è più niente da vedere, c'è un paesaggio, qua si intravedono altre costruzioni, altri paesini, c'è un cielo, ci sono le pietre, ci sono addirittura con un taglio che è quasi fotografico due figure in primo piano e che iniziano a scandire lo spazio in maniera chiara, no? Ci sono vari livelli di spazio, il primo, il secondo con le donne, dalle donne parte tutto un camminamento di persone che va via via rimpicciolendosi e in questo movimento crea il senso di profondità del quadro, c'è addirittura, ci sono addirittura le terga di questo cavallo e in tutto al centro ovviamente abbiamo il Cristo. abbiamo le altre due figure livide, i colori qua dei corpi sono veramente lividi e sotto una madre luttuosa completamente diversa. Guardate, qua abbiamo una madre luttuosa solida nel fisico, nella postura impietrita, bloccata, congelata. Qua abbiamo una madre che scivola via che sviene, che deve essere sorretta da questo gruppo di donne che è tutt'uno. Hanno l'aureola e c'è questa figura un po' più sullo sfondo, la tristezza che riesce a trasmettere il mantegna in questo sguardo straordinaria e la madre, la madre livida come i corpi dei crocifissi. La madre è venuta meno, deve essere proprio sorretta, sennò cade a terra. La terza crocifissione è la prima da un punto di vista cronologico, è quella giottesca, al 1303-1305 siamo a Padova nella Cappella degli Scrovegni, è il ciclo delle storie della passione. Qua in primo piano abbiamo Maria Maddalena, è proprio in questa posa anche lei disperata, covacciata, anche qua non è in piedi, anche qua è a terra, non è frontale ma è laterale, non copre parte della croce e perché non copre parte della croce? Perché il pittore ha voluto far vedere che il sangue che cola dalla croce dove va? Va sì sulla ciocca di Maria Maddalena ma va verso questo teschio, questo onfratto nella roccia da cui emerge un teschio e il Monte Calvario è proprio il luogo del cranio in cui era sepolto Adamo, grande peccatore e il sangue serviva a cancellare proprio il peccato originario. È un sangue salvifico, è un sangue che purifica. Anche qua abbiamo una Maria del tipo di Mantegna, una Maria che viene meno, che non regge al dolore. Siamo subito dopo che Gesù dice a Giovanni ecco tua madre, te l'affido prima di ispirare. Anche qua c'è molto equilibrio nella composizione, abbiamo il gruppo delle donne, abbiamo il gruppo dei soldati, abbiamo la crocifissione centrale che scandisce lo spazio. Anche qua come masaccio abbiamo un fondo neutro, non abbiamo la città, i dettagli del Mantegna dove vediamo proprio le costruzioni, le architetture, il tipo di strada, la vegetazione, il cielo e la foschia che si crea sul fondo. Qua siamo di nuovo in una situazione neutra come sfondo di un bellissimo blu e con questi angeli volanti come uno storno di uccellini che proprio circonda il Cristo morto e che sono disperati. Qua abbiamo le gesta delle lamentatrici che abbiamo avuto in masaccio e in Maria Maddalena perché questo angelo si strappa le vesti, c'è chi si contorce le mani, c'è chi proprio le solleva, c'è disperazione, sono tutti attoniti e crea tantissimo movimento. Sotto il movimento non c'è, sopra il movimento c'è. Quindi sotto è tutto più fermo, è tutto a blocchi, sopra invece c'è proprio questo movimento. Chiudo poi con i cosiddetti lutti bianchi. Allora questo è un genere di madre luttuosa ma in questo senso si allarga molto di più anche alla famiglia in cui il lutto c'è ma non si vede. Come ci sono le vedove bianche di coloro che non tornano dalla guerra, di coloro che si perdono in mare, in montagna e non se ne sa più niente. I lutti bianchi sono terribili perché aprono la porta come non mai alla possibilità che il lutto diventi un irrisolto e quindi nel tema natale della discendenza sia visibile. Allora questo è un caso ovviamente parliamo dei desaparecidos in Argentina durante la dittatura, centinaia di ragazzi spariti, poi si è saputo torturati, uccisi nei modi più terribili e le madri, le nonne hanno proprio creato questi comitati per avere notizie, per avere la verità. Abbiamo visto prima i genitori di Giulio Reggeni, i genitori di Lari Alpi, nella foto c'era solo la mamma ma il papà è morto di dolore perché spesso quando ci sono queste battaglie lì si fa, le si fa, le si fa ma si è mangiati vivi e spesso ci si può ammalare. Io ho un profondo 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 rispetto per queste coppie genitoriali come i genitori di Reggeni che con questa dignità assoluta portano avanti queste battaglie così difficili, così difficili pensando allo strazio dei propri figli che non ci sono più. È veramente terribile, guardate se poi va di mezzo l'idea della tortura come si fa a elaborare, come si fa? Altri casi di lutti bianchi collegati ai figli sono di questo tipo, tutti ci ricordiamo chi non è, insomma chi ha più di una certa età si ricorda del caso di Emanuela Orlandi sparita nel nulla, se ne è parlato in mille modi in Italia, è diventata ombra della società perché ovviamente il caso di Emanuela Orlandi ha superato i confini della sua famiglia, è diventata, questi sono casi che diventano Giulio Reggeni, Laria Alpi, Emanuela Orlandi, Denise Pipitone, sono casi di tutti noi perché toccano anche noi, siamo attivati psichicamente anche noi, diventiamo anche noi genitori di questi casi, ne siamo coinvolti emotivamente, quindi fanno parte poi di quel inconscio della società che poi di quella memoria legata non alla storia biografica ma al tempo e al luogo in cui si viva e anche qua sono casi estremamente dolorosi che fanno appunto in cui ombra individuale, familiare e collettiva si sovrappongono ma che aprono proprio la porta all'irrisolto nel lutto, al lutto patologico complesso perché? Perché non c'è neanche un lutto, perché non c'è neanche una parola fine, perché non c'è mai un corpo, non c'è una tomba su cui piangere, non c'è nulla, c'è il vuoto e come si fa a elaborare il vuoto? Io con questo vi saluto, grazie mille se siete arrivati fin qua per aver visto il video fino alla fine, questo è un tema per me tanto tanto importante perché è un tema che io incontro in tantissimi alberi e ci parla tanto tanto di dolore e quindi tanto tanto rispetto per tutto questo. Grazie mille e buona giornata a tutti!